Un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV, in studio Leonardo Bardazzi. In A12 incidente tra Carrara e Sarzana in direzione Genova, incidente anche in FIPILI tra il Bivio A12 Genova-Livorno e Livorno-Aurelia in direzione Livorno. Sulla FIPILI restringimento di carreggiata nel tratto tra La Strassigna e Ginestra-Fiorentina per lavori in corso. In A1 per lavori in direzione Bologna corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandici. Sulla Firenze Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze Impruneta in direzione Firenze. Sulla statale Tre Bistiberina per lavori sono chiusi gli svincoli Valsavignone e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Orte. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!